sì allora dax long è bella oggi perché faccio l'esatto contrario di luca e potrei anche preoccuparmi perché luca è molto molto bravo e quindi fare l'esatto opposto di uno bravo insomma potrebbe essere pericoloso però ho fatto questo long di dax da 14.280 fatto ancora no perché chiaramente deve essere eseguito siamo 20 punti più in alto siamo 300 in questo momento con 100 punti di stop e 100 di target quindi 14 180 e lo stop loss 14 380 il target lo stop è di poco sotto i minimi di giovedì i minimi fatti negli ultimi giorni sono stati fatti nella seduta di giovedì a 197 se prendiamo come riferimento il futures cadenza dicembre quindi sono quei 17 punti sotto quel minimo non è assolutamente tanto perché una candela 15 minuti del dax di punti ne fa tranquillamente 30 quindi sono veramente risicato con lo stop e il target invece 380 è sui massimi che sono stati toccati venerdì in chiusura del cash sono stati toccati sempre venerdì in pausa pranzo ma per esempio erano stati toccati anche mercoledì a metà mattinata circa inizio mattinata quindi sono livelli sensibili orizzontali importanti non ho potuto comprare più alto perché poi non ci stavo appunto dentro con livelli di di stop e target altrimenti insomma dalle 10 in poi da quando si è attivata la possibilità di essere eseguiti appunto per in funzione della gara c'è stato un minimo a 284 quindi dovevo comprare 290 però poi 390 e 190 di rispettivamente target e stop non mi andavano bene per i motivi appunto detti detti prima dei livelli toccati in questi giorni perché il dax long perché venerdì è stato l'unico a fare non solo minimi e massimi crescenti rispetto alla seduta del giorno precedente quello l'hanno fatto anche tantissimi altri indici ma è stato l'unico a chiudere positivo perché per esempio euro stocks nasdaq s&p 500 hanno fatto la seduta di venerdì con minimo e massimo di giornata entrambi più alti del giorno precedente però hanno chiuso tutti e tre negativi invece il dax seppur di poco il suo 0,2 0,25 per cento di performance positiva l'ha portato a casa per non parlare del fuzzimib che addirittura venerdì ha fatto un minimo molto più basso del giorno precedente ha chiuso negativo è stato praticamente il più debole quindi per concludere in una situazione di incertezza della quale ha parlato e anche riccardo prima ho preferito andare long su quello che negli ultimissimi giorni ed ore di negoziazione è stato quello un po meno debole o più forte insomma che dir si che guarda io 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 Grazie a tutti